Matteo Donati, prima semifinale in un Challenger, però che fatica, ci sono voluti tre set, due tie break per avere la meglio su Ardavoldi? Sicuramente è una parte difficilissima, dal primo punto anche se è un partito bene, mi aspettavo una parte molto lunga, che non voleva dire niente il primo set, infatti è stata molto lunga, gestita bene da tutte e due perché non abbiamo mai avuto grossi cali e quindi sono contento alla fine di aver portato a casa questa guerra di nervi più che altro. Ed è importante secondo me star bene fuori dal campo, quando riesci ad avere tranquillità fuori dal campo, in campo sicuramente le cose vanno meglio e questo è un bellissimo posto, una bella città, si mangia bene, l'organizzazione cerca di far sempre il meglio per i giocatori e questo aiuta molto per poi esprimersi al meglio in campo. Sicuramente la federazione ci sta aiutando molto, ci aiuta con le wildcard, spesso andiamo a Tirrenia a allenarci lì, siamo seguiti comunque ed è bello avere una federazione che cerca di aiutare in tutti i modi per arrivare poi in alto insieme. Adesso penso qua, tranquillo, cercare di fare le cose giuste e poi giocherò Vercelli, Torino, le Prequali e poi vediamo tramite i risultati cosa fare e come gestire il resto della stagione. Grazie.